Buonasera a tutti, allora intanto grazie a tutti i nuovi iscritti al canale che giorno e giorno sta crescendo e quindi dà un sostegno per poter creare altri nuovi video. Vi ricordo di iscrivervi sempre in tanti se vi fa piacere. Allora vi faccio vedere, nel video precedente parlavamo dell'equalizzatore attivo che voglio aggiungere in più a quell'esistente nel mio pacco batteri LiPF4. Allora oggi vi faccio vedere come inizierà ad assemblare i fili. Ora noi partiamo dal B- e poi a cascata si collegano tutti nella stessa maniera. Allora questo qui è l'equalizzatore che voglio aggiungere a quello già esistente nelle batterie. Allora qui, vi faccio vedere meglio, c'è il scritto B- e si collega al negativo generale della batteria. Poi il B1, B2, B3, qui magari poi salta perché non c'è spazio nella cover, ma da qui possiamo già contare tutti i punti vuoti degli alloggiamenti dei fili. E colleghiamo i fili a cascata iniziando dal negativo generale, che è il primo qui, B-. Quindi si collegherà il negativo sul primo posto vuoto qua dell'alloggiamento dei fili, che si può togliere qui. L'hanno fatto estraibile, non è fissa, anzi è comoda. Perché tu quando hai completato tutti i fili, si inserisce e già è pronto. Allora, iniziamo, così non mi dilungo con tutti i discorsi, iniziamo dal B- che sarà il negativo generale. E poi il B1 è sul primo positivo della prima cella, il B2 nel primo positivo della seconda cella e così via, fino all'ottava cella. Il negativo è soltanto 1, il primo che verrà inserito qui. Allora, qui ho tagliato già il filo che loro danno, tutti insieme danno il filo, che poi man mano diventa la misura che dovete calcolare dove verrà messo l'equatizzatore e dove entra il filo fino ai poli della batteria. Allora, noi questo qua l'abbiamo staccato e ci serve. Ricordiamoci sempre di controllare di partire dal B-, quindi sarà di questo lato qui. Allora, prendiamo il filo già tagliato, i spezzoni che ci servono dalla lunghezza esatta, e iniziamo a spellare con una spellagave, così ci viene più comodo e facile, i primi fili. Visto, si è spellato, ora arrotondiamo un po' così e si inizia, si entra qua, se si riesce a vedere, tipo come morsetto. Ora, se è troppo lungo, potete anche poco poco accorciarlo con delle forbici, si accorcia di poco, tanto per fare una cosa pulita e pignola. Sempre ricordate il lato del B- perché dovete partire sempre da lì. Ecco, si tiene, con un giravite a spacco si stringe, stringiamo, mettendo forza, se no si rompe. Ah, aspetta, questo qui è al contrario della filettatura. Allora, dobbiamo svitare per stringere, no? È fatto al contrario. Svitando, stringe il morsetto. No, allora abbiamo sbagliato. Aspettate un attimo, c'è un po' di confusione perché ancora non l'ho provato mai questo qui. Allora, si svita tutto. Quando la linguetta si abbassa, adesso ho capito il funzionamento. La linguetta si abbassa, si entra il filo e si inizia a stringere. Così. Ora è perfetto. Poi che succede? L'altro lato, ci dobbiamo mettere noi, nell'altro lato, un capicorda di questi qui. Un M6, dipende i morsetti della batteria che avete. Questo qui è un capicorda M6, così entra il piolino del polo. Quello in te ne stringete il dato. Un M6 con a canna aperta, questi qui sono. Allora, sbagliamo il filo sempre dall'altro lato. Entriamo questo qui. Facciamo, se si vede, un po' di plastica, facciamola trattenere dai mossetti della spinetta. E allora, stringiamo. Uno. E due. Se si vede, questo qui è il primo. Poi il secondo che, le seconde linguette che schiacciano un po' la plastica del capicorda. Ecco qui. Così è finito, se si riesce a vedere. Vediamo se magari lo metto a fuoco. Ecco, così. Schiacciato. Ora, dopo questo, dobbiamo saldare. Perché io con un po' di stagno lo saldo. Così va bene. Non è che non va bene. Però, per correttezza, io lo saldo. Però, vi volevo fare notare che io ho sbagliato una cosa. Di norma io ho messo sempre le guaine termorestringenti. Ora, vi faccio vedere, dopo ho saldato, che comunque ancora siamo in tempo e la possiamo entrare da qui. Dalla... Da dove abbiamo stretto qua nella morsettiera. Quindi, la guaina termorestringente, usciamo di nuovo il filo e la entriamo da qua. Ma questa cosa è meglio farla prima, lasciarla qui a metà capo e poi si porta qua. Per poi riscaldarla e si restringe. Allora, ora saldiamo questo pezzetto qua del filo con il capicorda. Possiamo anche usare questa qui, che è comoda, che ci tiene i cavi fermi. Allora, usiamo un po' di pasta salda. Questa serve per aiutarci a saldare e aderire meglio lo stagno. Così, si passa qua. Qua si può mettere da parte. E si inizia con un saldatore, anche come questo qui. Da 100 watt, con una punta fine. E si salda. Basta poco di stagno. Noi che dobbiamo proprio esagerare. Ecco qui. Ecco. Un saldatore pulito. Poco poco. E questo qui rimane eterno, finché non lo tagliate. Ecco. Vedete qua? Lo stagno è entrato all'interno, quindi è bloccato il filo all'interno. Un saldatore perfetto. Questo qui rimane eterno, finché non si taglia. Allora, come vi dicevo, io qui ho tolto dalla mossa il tiro e il filo, per poter entrare la guaina tempo restringente. Per andarla a mettere qua, dove ho fatto la saldatura. Per una questione di... Ma anche sempre più pulito, e anche per risolare il punto che esce solo del contatto dove andremo a collegare al polo della batteria. Allora, io qua ho tutto il set di guaina tempo restringenti, in base alla misura che volete voi. E andate a cercare una misura né troppo stretta né troppo larga, perché poi pensate che anche se entra nel filo qui, vedete, diciamo quasi precisa, deve andare poi ad infilarsi qui, dove abbiamo saldato il capecorda, che è un po' più largo. Quindi, meglio abbondare poco poco, ma ne tanto perché sennò non stringe bene. Quindi andiamo a aumentare un po' la misura. Proviamo con questa qui. Con questa nera siamo già abbastanza larghi. Quindi mettiamo questa qui, così, e andiamo di nuovo a stringere nella morsettiera. Sempre accettiamoci che il lato del B- è questo qui, e lo andiamo a mettere di nuovo qui. Allora, questo qui lo sono andato, di nuovo lo ho stretto nella morsettiera, e qua c'è la guaina tempo restringente. La portiamo qui verso il capecorda, vedete, e si mette bella, è una cosa pulita. E si passa ora, con un accendino, con questa qui, tipo a cannello, con una fiamma così, si passa velocemente, senza far bruciare il filo ovviamente, solo questa guaina tempo restringente. Mano a mano vedete che si stringe. A posto. Lo fate raffreddare un po'. E questo qua, è il lavoro finito. E la stessa cosa dovete fare negli altri alloggiamenti. Per il positivo della cella 1, positivo della cella 2, questo qui è solamente il negativo, il negativo che basta 1. Poi, andiamo a prendere, per esempio, una cosa pulita, un'etichettatrice. Che scriviamo? Negativo. 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 E andiamo a stampare. Ecco qua. Questo qui, lo andiamo a mettere, o potete fare anche la scrittura un po' più piccola. Lo andate ad incollare qua. Lo potete mettere un altro qua, ma basta anche uno. Così, al colpo d'occhio, sapete che questo qui è negativo. E potete andarlo subito a mettere sul negativo. E così non sbaglierete. Quando fate il positivo, mettete positivo cella 1, positivo cella 2 e così via. Fino all'ottavo o 16, se avete 16 celle, per esempio. Questo qui. Già, non c'è bisogno che alcuni magari non l'hanno usato mai. Vi faccio vedere ormai come funziona. L'etichetta dice, vi lascia questo qui in più. Proprio per usarla anche così. Anche così. Perfetto. Questa è la parte che incolla dietro, anche se la volete lasciare così. Non va niente. Si può anche scrivere più piccolo, se vi sembra troppo incomprante. Non dipende cambiando qua le impostazioni dell'etichettatrice. E niente. Spero che vi sia stato d'aiuto questa spiegazione. Per chi non l'ha visto fare mai, non lo so. E poi, al lavoro finito, si collega questo qui e qua. Così. Quando avete finito di collegare ovviamente le morsette. Avete tutto il molloppo di fili. E andate a collegare sulla batteria l'iPF4. Nel vostro pacco batteria. E basta. Da quando avete collegato il tutto e inserite la morsetterà qui. Lui inizierà a bilanciare per sempre. Finchè non si romperà. Ok. Io vi ringrazio. Una buona serata. E iscrivetevi sempre al canale. Grazie.